Anticipazione d'estate condilettando la popolare trasmissione di Toscana TV condotta e diretta da Carlo Sestini che arriva a Montecatini Terme grazie alla sezione Avis locale. Come al solito sul palco del Palazzo dei Congressi della cittadina termale saliranno dilettanti di ogni età per potersi misurare con le tante forme dello spettacolo, dal ballo al canto, dalla recitazione alla danza, dalla ginnastica artistica a quella ritmica. Insomma comici, barzellettieri, danzatori, ballerini, ginnasti, cantanti, rumoristi e quant'altro potranno cimentarsi in una prova di massimo 5 minuti per esprimere le proprie qualità e doti grazie a questo programma spettacolo che da 13 anni coinvolge nelle piazze schiere di dilettanti alla riscossa. Per i primi due classificati si schiuderanno le porte della finale mentre il terzo e il premio simpatia dovranno passare dalle forche caudine della semifinale prevista a Capalbio il 28 di agosto. Ma la puntata di Montecatini Terme regalerà tanti altri momenti in cui si miscelano lo spettacolo con la solidarietà e il divertimento. Abbiamo voluto organizzare questa serata come Avis Montecatini Terme, spiega il presidente Mario Gilardi, perché ci permetterà di parlare di donazione e di farlo grazie al progetto Cartoon School, i cui lavori saranno proiettati e mostrati al pubblico proprio in occasione della puntata. Oltre al direttore artistico del Cartoon School, Mirko Fabreschi, saranno presenti tutti i bambini delle classi coinvolte nel progetto nato quattro anni fa nel Grossetano e oggi esportato in tutta la Toscana. Mi corre l'obbligo, ha detto ancora Gilardi, di ringraziare i quanti ci hanno aiutato per poter portare dilettando a Montecatini a partire dagli sponsor fino all'amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio. Il calendario del Tour 2016, in allestimento, prevede dopo quella di Montecatini Terme, tappe a Castino della Pescaia l'8 luglio e l'11 agosto, Massa Marittima il 22 luglio, Santa Fiora il 26, Scarlino Scalo il 6 agosto. Ricordiamo che per iscriversi e partecipare a questa, come alle altre serate, basta contattare il numero 348 3536 655 o la pagina Facebook del programma. Tutte le puntate saranno programmate su Toscana TV.